Cosa è esattamente il tumore del polmone cosiddetto a piccole cellule? In cosa si differenzia rispetto al tumore invece non a piccole cellule che è molto più frequente? E soprattutto perché è così difficile da trattare? Abbiamo parlato con una vera esperta, con la dottoressa Lorenza Landi, che abbiamo incontrato qui a Milano nel corso di un evento rivolto alla stampa medica per la presentazione di una novità importante per la cura di questo particolare tipo di tumore del polmone. Dottoressa Landi, innanzitutto che cos'è esattamente il tumore del polmone a piccole cellule e che differenza c'è rispetto a quello più frequente che è quello non a piccole cellule? Il tumore polmonare a piccole cellule appartiene al gruppo della patologia oncologica toracica. Rispetto al tumore polmonare non a piccole cellule ovviamente si differenzia per l'aspetto, quindi l'aspetto dal punto di vista anatomopatologico o microscopico, se vogliamo. Deriva appunto il suo nome dal fatto che è composto principalmente da cellule, quindi da piccoli elementi cellulari che sembrano molto simili l'uno agli altri, differentemente dalle forme invece per esempio di adenocarcinoma o carcinoma squamoso, che hanno degli aspetti istopatologici completamente differenti. A dispetto però che lo chiamiamo micrositoma, il micrositoma quindi qualcosa di piccolo in realtà rappresenta un problema enorme dal punto di vista della gestione della patologia polmonare, perché di fatto rappresenta una malattia molto aggressiva. La biologia del micrositoma è una biologia di una malattia estremamente aggressiva, a rapida crescita, e avendo una rapida crescita ovviamente si presenta con un corteo di sintomi fin dal suo esordio che la contraddistingue. Sintomatologia prevalentemente di tipo respiratorio come tosse, fatica a respirare, difficoltà anche nel fare movimenti o sforzo fisico, e in alcuni casi può associarsi a dolore o ad altre manifestazioni localizzate alle sedi di malattia che vengono coinvolte. Alla diagnosi sfortunatamente si arriva quasi sempre quando la malattia è già in fase avanzata. Dottoressa, quanto è frequente questa forma di tumore del polmone? Facendo un percentuale su un 100%, il micrositoma riguarda ad oggi il 15% della patologia polmonare. Di questi abbiamo circa un 20% che si presenta in stadio non ancora avanzato e purtroppo il 75-80% dei pazienti si presenta con una malattia già in fase metastatica. Chi è il paziente più frequentemente colpito? Una persona giovane, una persona anziana, fumatori, non fumatori? Qual è la situazione? Allora, io parlo scherzosamente di vittimologia del micrositoma perché abbiamo un identikit ben preciso di questi pazienti. Sono per lo più soggetti di età compresa fra i 60 e i 70 anni, anche se non è raro purtroppo ad oggi incontrare nei nostri ambulatori persone anche molto più giovani. Sono sicuramente pazienti fumatori. Il fumo rappresenta ancora oggi il fattore di rischio più conosciuto e meglio studiato per quanto riguarda l'insorgenza del micrositoma. Sebbene in passato vi fosse una netta distinzione tra maschi e femmine, direi che al momento la tendenza è quella di avere anche una incidenza piuttosto elevata nei soggetti di sesso femminile. E come si arriva alla diagnosi? Lei già ci ha un po' spiegato il quadro clinico. Può essere intercettato casualmente questo tipo di tumore facendo altri tipi di esami oppure di solito poi è il quadro clinico che indirizza poi verso la diagnosi? Purtroppo ad oggi le diagnosi incidentali di micrositoma sono direi rare. Non abbiamo peraltro modo di avere nemmeno una diagnosi precoce attingendo alle campagne di screening o all'utilizzo della TAC nei soggetti a rischio. Quindi il più delle volte è il paziente che si rivolge al medico per la presenza di sintomatologia respiratoria oppure sono accessi in pronto soccorso per eventi piuttosto comuni, eventi cardiovascolari, eventi tromboembolici. Ricordo che essendo una patologia della persona in sesta, settima decada d'età forte fumatore è altamente probabile che ovviamente la presenza di un micrositoma possa slatentizzare tutta una serie di altre comorbidità legate appunto all'abitudine età basica. Senta dottoressa, l'incontro di oggi si tiene per raccontare una novità importante nella cura di questa forma di tumore del polmone, cioè la disponibilità di un immunoterapico che si chiama Durvalumab. Che avanzamento, che progresso rappresenta la disponibilità di questo farmaco per voi clinici? Per noi clinici rappresenta innanzitutto ma anche per i pazienti una grossa opportunità. Opportunità data dal fatto che ad oggi la strategia di chemio e immunoterapia è quella che si è dimostrata dopo anni di insuccessi l'unica in grado di prolungare la sopravvivenza di questi pazienti. E considerando anche il fatto che non abbiamo chance di seconda linea efficaci, col micrositoma ce la giochiamo unicamente in prima linea. Quindi precludere a un paziente la possibilità di accedere al trattamento di chemio immunoterapia, in questo caso in particolare col Durvalumab, significa andare a incidere con le chance di sopravvivenza a lungo termine. Lei ha parlato dei malati che ovviamente sono poi l'oggetto di tutte le vostre attenzioni. Cosa significa avere questo farmaco a disposizione? Che progresso può rappresentare per loro in termini di sopravvivenza, ce l'ha detto, ma anche di qualità di vita? Allora, l'opportunità di avere questa strategia terapeutica sicuramente impatta positivamente sul malato per due motivi. Il primo perché cambia la strategia di trattamento. In questo caso con l'utilizzo di Durvalumab, quindi un pacchetto completo che comprenda chemio immunoterapia e una fase di mantenimento con la sola immunoterapia, anche dal punto di vista del malato, è molto rassicurante perché significa stare in trattamento attivo per un periodo ovviamente prolungato. Di fatto lo studio che ha portato alla registrazione e all'approvazione di questo farmaco dimostra anche come a tre anni vi sia una quota di pazienti che raggiunge quasi il 18% che è lungo sopravvivente e quindi per la prima volta possiamo fare una previsione ovviamente nel corso di ben tre anni. Quindi il messaggio è sicuramente importante per i nostri malati perché per la prima volta è un messaggio di ottimismo che possiamo avere con tutte le cautele del caso, ma deve essere un monito anche per i clinici di sfruttare un'arma terapeutica molto efficace.